Sono Rino Valente, lavoro per Adrenalina Pollonica Giro molto, diciamo che ho lavorato in Australia, a Sydney, con loro a San Francisco Lavoro a Ghirigori, a Lecco e nelle convention in giro per il mondo Il mio stile è giapponese-americano Sono un artista in realtà, però è molto piena come definizione Cerchiamo di essere artigiani perché bene o male dobbiamo fare una cosa su commissione Quindi un artigiano è una persona che produce una cosa sua e la vende Quindi noi siamo quelli in realtà, siamo degli artigiani La prima regola di un buon tattoo shop è non mandare via mai nessuno Le riviste sono molto più specializzate e di conseguenza anche i clienti sono molto più specializzati Cioè chi viene da me o chi viene da noi comunque sa esattamente quello che vuole È impossibile che mi viene qualcuno e mi dice mi fai una cosa a stile tuo Lì rimani proprio, non sai cosa fare, non sai cosa disegnare perché in realtà puoi disegnare tutto Oggi mi sono guardato un po' in giro in questi giorni e gli italiani sono cresciuti molto Però siamo ancora molto lontani rispetto alla media Cioè se vedi gli spagnoli per esempio sono un passo avanti sicuramente a noi Comunque siamo già a un buon livello rispetto ad anni fa Gli italiani sono andati molto avanti comunque Lavorano anche all'estero tantissimo, propongono delle belle cose Però bisognerebbe un pochino più con umiltà andare un po' più avanti E cercare di rimettersi in linea con tutto il resto insomma Rino Valente all'Adrenaline Studio a Follonica e al Ghirigori su All'Eco E in giro per convention Ok? 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 Now I know how it fits.